Un pullman con a bordo 43 studenti ha preso fuoco in una galleria dell'A1 tra Savona e Spotorno. I vigili del fuoco hanno favorito l'allontanamento dal mezzo dei ragazzi e dell'autista mentre sopraggiungevano quattro ambulanze inviate dalla centrale operativa. La postrada ha temporaneamente chiuso il traffico autostradale per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso e anche il tratto in direzione opposta a causa del denso fumo. Stanno tutti bene gli studenti marchigiani dell'Ipsia Padovano di Senigallia che si trovavano a bordo del pullman. I ragazzi impegnati in un viaggio di istruzione tra Toscana, Liguria e Costa Azzurra si sono accorti delle fiamme provenienti dal motore, si sono precipitati così all'esterno e di corsa hanno raggiunto l'uscita della galleria che è stata saturata in breve tempo dal fumo e sono stati così accompagnati alla palestra della scuola media del comune di Spotorno dove hanno consumato il pranzo in attesa del mezzo sostitutivo che li riporterà poi a casa. Lievemente intossicati invece i due autisti che sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Santa Corona. La 10 è stata riaperta ma la chiusura ha provocato lunghe code in entrambi i sensi di marcia. 10 tra Feglino e Savona in direzione Genova e altri 9 tra Albisola e Spotorno verso Ventimiglia. Riaperta anche la 6 chiusa all'altezza di altare per il brocco sulla A10.